Era una gara sulla carta proibitiva e così è stato. Troppo più forte la capolista per la Conad Lamezia in quello che è il più classico dei testa-coda. Sul difficile campo di Mondovì la squadra di riga non riesce a ben figurare solo nel secondo e nel terzo parziale, cedendo quasi di schianto invece nel primo set. La gara come detto non ha avuto storia e i padroni di casa l'hanno condotta fin da subito. Un primo break ha condizionato l'andamento del primo set, terminato 25-15, ma anche nei successivi parziale Lamezia, pur riuscendo a stare maggiormente a contatto, nulla ha potuto contro il maggior tasso tecnico dei rivali. I piemontesi toccano così quota 42 in classifica, sempre più in testa, mentre quelli dei lamettini restano 8 in coda. Ma ora arrivano gli scontri diretti che saranno a dir poco fondamentali per la Conad. Le prossime gare contro Alessano e Leverano e poi quella contro Roma saranno decisive per provare a restare in Serie A2.